Il Consiglio Comunale di Agropoli è convocato per il giorno 19 giugno alle ore 18 per discutere una serie di interrogazioni dei consiglieri di minoranza Agostino Abate e Gisella Botticchio. Interrogazione ed interpellanza del consigliere Agostino Abate al sindaco su comunicazione della provincia di Salerno sulla questione isola ecologica in località Malagenia, sulla delibera che ha dato il via ai lavori della stessa isola ecologica sullo stato attuale della procedura di verifica da parte della provincia di Salerno in merito al PUC, su deleghe conferite, su concessioni di posti barca nel porto di Agropoli, su dimissioni da consigliere unionale. Invece Giuseppina Botticchio interrogerà il sindaco su concorsi pubblici, poi si rivolgerà ai consiglieri delegati Giuseppe Di Filippo e Franco Di Biasi sui lavori al porto di Agropoli, un'altra interrogazione sarà diretta al vice sindaco sulla baia di Trentova e per terminare all'assessore Rosa Lampasona sull'ospedale di Agropoli. Terminate le interrogazioni si partirà con l'approvazione dei verbali della seduta del 28 aprile 2020 dal numero 1 al numero 9, si procederà all'elezione del vice presidente del consiglio comunale, viste le dimissioni del consigliere Caccamo che deteneva tale carica e si procederà anche all'elezione del nuovo membro della commissione locale per il paesaggio, alla sostituzione del membro commissioni consigliari permanenti, sanità, politiche sociali e innovazione tecnologica, urbanistica, condono, lavori pubblici, manutenzione ed igiene, porto e demanio, cultura, beni culturali, pubblica istruzione, politiche, giovanili, associazionismo, protezione civile. Sarà discussa per essere ratificata la variazione di bilancio di previsione armonizzato 2019-2020 adottate in via d'urgenza dalla giunta comunale con delibera 66 del 19 marzo scorso. Ancora una ratifica per la variazione di bilancio di previsione armonizzato 2019-2021 adottate in via d'urgenza dalla giunta comunale con deliberazione numero 6 del 31 marzo scorso. Sarà discusso il differimento dei termini di acconto dell'IMU anno 2020, l'approvazione tariffetari anno 2020 ed infine si voterà per la revoca del regolamento per la disciplina di installazione e gestione dei DEORS, annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, approvato con delibera di consiglio comunale del 26 giugno 2018. Qualora la seduta dovesse andare deserta, il consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria di seconda convocazione il 20 giugno.